Eccoci, qua è tutto finito, è stata una gara molto emozionante. Per vedere come è andata, andate tutti sul blog di Germi. Ciao! Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova avventura in compagnia di Germano e... Ciao! Dove siamo a diretti? Da qui. Andiamo a vedere i modelli di ginnastica, per cui continuate a guardare questo blog. Ciao, a presto! Pronta? Ciao! Sì, prontissima! Io un po' meno questa è la situazione, però dai! Per imbaccarsi sull'aereo per battute. Eh sì, pronti! Yes! Ah, il vetro! Arriva, l'Ati! Arriva, l'Ati! Arriva, l'Ati! Arriva, l'Ati! Anderle I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier Even though I might not like this I think that you'll be... Grazie! Grazie. 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 Proviamo la birra a zero, mamma. Salute. Buona la birra a zero, costa due euro. Assaggio la zuppa di lenticchia a zero, attenzione. Com'è? Non è mai, si vuole un po' di sale. E con oggi si conclude la mia parte del mio logo. Good night. No. 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 Forza ragazze! Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia! Sì! 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 Ale! Ale saluta! È per un vlog su YouTube! Sì! 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 Oh! 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 Häürliche Sì! V corroon I teleen!!! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.